ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario vtvp1 a cosa serve vtvp1 4 ha un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino virus inattivato della bluetongue appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini virali inattivati è commercializzato in italia dall'azienda bering e ringgele i mani malelfi italia spa vtvp1 4 può essere prescritto con ricetta mvet medicinale ad uso esclusivo di medici veterinari informazioni commerciali sulla prescrizione titolare bering e ringgele in vetmedica gmbh concessionario bering e ringgele i mani malelfi italia spa ricetta mvet medicinale ad uso esclusivo di medici veterinari principio attivo vaccino virus inattivato della bluetongue gruppo terapeutico vaccini forma farmaceutica sospensione confezioni vtvp1 btv 1 sospensione iniettabile sc per rovini bovini 1 flacone 50 ml 50 dosi vtvp1 4 sospensione iniettabile sc 1 flacone 50 ml 50 dosi per rovini e bovini vtvp4 btv 4 sospensione iniettabile sc per rovini bovini 1 flacone 50 ml 50 dosi principio attivo ciascuna dose da 1 ml contiene virus della bluetongue inattivato 7 livello di passaggio specifico per ceppo log 10 pixel al massimo due sierotipi differenti del virus della bluetongue inattivato livelli di passaggio specifici per ceppo vtv1 contenuto di antigene proteina vp2 determinata mediante saggio immunologico 1,9 lo 10 pixel barra ml livelli di passaggio specifici per ceppo vtv2 contenuto di antigene proteina vp2 determinata mediante saggio immunologico 1,82 lo 10 pixel barra ml livelli di passaggio specifici per ceppo vtv4 contenuto di antigene proteina vp2 determinata mediante saggio immunologico 1.86 log 10 pixel barra ml livelli di passaggio specifici per ceppo btv 8 contenuto di antigene proteina vp2 determinata mediante saggio immunologico 12 log 10 pixel barra m un test di potenza finale di conferma mediante la siero neutralizzazione nei ratti ha eseguito durante il rilascio dell'otto adiuvanti altre più come idrossido 2,7 mg saponina 30 unità emolitiche la tipologia del i ceppo e al massimo due ceppi presenti nel prodotto finito sarà selezionata in base alla situazione epidemiologica al momento della produzione e sarà indicata sull'etichetta indicazioni immunizzazione attiva degli ovini per la prevenzione della viremia e la riduzione dei segni clinici causati dai sierotipi 1 2 4 e barra 8 del virus della bluetongue al massimo combinazione di due sierotipi immunizzazione attiva dei bovini per la prevenzione della viremia causata dai sierotipi 1 2 4 e barra 8 del virus della bluetongue e la riduzione dei segni clinici causati dai sierotipi 1 4 e barra 8 al massimo combinazione di due sierotipi al di sotto del livello di rilevazione mediante il metodo validato rt pcr con 3,68 log 10 copie di rna barra ml che indica l'assenza della trasmissione del virus infettante ha stato dimostrato che l'immunità si instaura tre settimane o cinque settimane negli ovini per il sierotipo btv 2 dopo la vaccinazione di base nei confronti dei sierotipi btv 1 btv 2 bovini btv 4 e btv 8 la durata dell'immunità nei bovini e negli ovini ad 1 anno dopo la vaccinazione di base controindicazioni nessuna posologia somministrare una dose da 1 ml per via sottocutanea secondo il seguente schema vaccinale vaccinazione di base negli ovini prima iniezione a partire da un mese di età in animali nati da madri non vaccinate o a partire da 2,5 mesi di età in animali nati da pecore vaccinate seconda iniezione dopo 34 settimane per il vaccino monovalente contenente il sierotipo 2 o il sierotipo 4 o per il vaccino bivalente contenente entrambi i sierotipi 2 e 4 del virus della bluetongue inattivato a sufficiente una sola iniezione nei bovini prima iniezione a partire da un mese di età in animali nati da madri non vaccinate o a partire da 2,5 mesi di età in animali nati da bovine vaccinate seconda iniezione dopo 34 settimane richiami annuali avvertenze avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione vaccinare solo animali sani la somministrazione del vaccino in altre specie di ruminanti domestici e selvatici considerate a rischio di infezione deve essere eseguita con cautela pertanto si consiglia di testare il vaccino su un piccolo numero di animali prima di procedere con la vaccinazione di massa l'efficacia di questo vaccino in altre specie animali può essere diversa da quella osservata negli ovini e nei bovini tempi di sospensione 0 giorni fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato